Ma intanto che la regione Campania è una regione guida di questo progetto importante, noi abbiamo voluto fortemente stare nelle regioni di testa, insieme a Lombardia e Sicilia, ma insomma noi siamo la regione che avrà anche maggiori finanziamenti, quindi tutto è legato ai giovani, a nuova occupazione, trasparenza, il mercato è difficile, c'è la crisi però dobbiamo aggredirla dando a tutti i giovani che non hanno occupazione dai 15 anni fino ai 29 anni un accompagnamento, un sostegno al sistema pubblico e privato. E con questo portale, con questo modo anche semplice di chiedere lavoro e di poter essere aiutato e sostenuto in maniera molto trasparente rispetto a un passato, devo dire che questa trasparenza soprattutto in Campania non l'ha mai avuta perché ognuno teneva il suo bacino di formazione o di politiche attive del lavoro molto chiuso, colpa in molti anni anche dello Stato e devo dire. Questo è un sistema totalmente nuovo, ci mettiamo tante risorse, più di altre regioni italiane, quindi questo è già un segnale, come si distingue la politica se noi diamo più risorse degli altri sulla occupazione giovanile. Noi l'aggrediamo in maniera molto diretta con questi oltre 200 milioni, ma che insieme al progetto che abbiamo messo in campo noi arriveremo complessivamente a tutte le politiche attive, a oltre 600 milioni di euro, quindi più di qualsiasi regione d'Italia. Il primo maggio il pensiero della regione Campania per i nostri giovani è che si parte con Garanzia Giovani Campania, 650 milioni circa per dare un'opportunità di incrocio tra domande e offerte di lavoro ai circa 400 mila ragazzi tra i 15 e i 29 anni di questa regione. Una grande scommessa sui nostri ragazzi, sul futuro ma anche sul presente dei nostri ragazzi, quindi finalmente non sei più solo, ti iscrivi in un programma che si traduce in una persona che ti accompagna verso il viaggio difficile ma oggi possibile del mondo del lavoro.